Vincenzo Baglieri Vincenzo Baglieri La carta della grafica che oggi contribuisce a organizzare questo evento ha già nel 2018 avviato un importante progetto in collaborazione con la mia università con la scuola di management dell'università Bocconi proprio sul tema dell'introduzione delle tematiche 4.0 all'interno della filiera un progetto che al tempo abbiamo chiamato almeno internamente tra di noi Printing 4.0 e che poi oggi è entrato in questa fase appunto che io ho definito qui di execution quindi quello che posso raccontarti innanzitutto è che cosa sta accadendo a livello di scenario complessivo e poi proviamo a capire come in qualche modo il 4.0 possa aiutarci e possa aiutare le aziende a migliorare le proprie performance competitive Se mi aiutate con le slide o se mi date il clicker magari li faccio direttamente quindi se possiamo un po' andare avanti per cortesia Dunque allora queste sono delle slide che io ho messo insieme lasciami dire qualche giorno fa e che inevitabilmente ogni giorno probabilmente andrebbero modificate Certo E che però hanno uno scopo molto semplice Cioè è quello di dire che una crisi come ben sapete come quella a cui abbiamo assistito imposta da una scelta peraltro anomala dal punto di vista se volete anche della storia dell'epidemiologia perché noi abbiamo messo in quarantena nel mondo oltre il 50% della popolazione e peraltro abbiamo messo in quarantena i sani storicamente si mettono in realtà in quarantena i malati o chi è stato in contatto con i malati L'abbiamo fatto perché non abbiamo avuto almeno nel breve termine la capacità di identificare chiaramente chi fosse affetto dalla patologia L'effetto netto è ovviamente che abbiamo bloccato la capacità dei nostri sistemi economici di produrre ricchezza La ricchezza si produce attraverso le transazioni che richiedono in qualche modo contatto tra persone che richiedono logistica e che richiedono mobilità Questa è stata chiaramente una crisi senza precedenti e a cui credo nessun testo sacro dell'economia avrebbe mai potuto prevedere delle soluzioni che stiamo inventando e che però se non altro ci dà due grandi messaggi Il primo è che sì, ci sono dei settori che vanno male e che andranno malissimo è inutile nascondersi ma ci sono dei settori che in realtà andranno molto meglio di prima e che probabilmente andranno in qualche modo a sopperire non dico alle lacune di altre storie ma insomma che beneficeranno o stanno imparando a beneficiare Faccio un esempio per tutti noi abbiamo visto nelle settimane scorse una impennata chiaramente molto legata al ciclo del periodo quindi non escludo che poi insomma sia a sestino ma una crescita per esempio di tutto il mondo legata non a caso alla grande distribuzione che sia poi fisica o che sia online o che sia come oggi appunto è già stato detto in introduzione in un continuo privo probabilmente di soluzioni di continuità tra il fisico e l'online sta di fatto che alcuni consumi sono diventati prioritari e che dall'altra parte le industrie stanno rimettendo in discussione una parte importante delle strategie del passato cioè quella legata all'eccessiva forse frammentazione dei propri portafogli di prodotti che aveva anche delle implicazioni per questa industria perché moltiplicava la complessità di tutto il fenomeno legato al packaging quindi da un lato come già stato detto le aziende di produzione stanno cercando paradossalmente di ridurre quelle che oggi noi chiamiamo le SKU le unità diciamo di codici che hanno nei loro portafogli di prodotto e stanno anche ripensando drasticamente alle soluzioni di stampa di materiali e di packaging per prodotti che devono essere distribuiti e venduti in un contesto economico diverso rispetto al prima quindi c'è una domanda paradossalmente anche di semplificazione e di innovazione riguardo al mondo della carta la grafica del packaging del printing in generale quindi un primo elemento su cui io vorrei se è possibile rasserenare a chi ci sta ascoltando dall'altra parte è che sì sicuramente ci aspettano mesi molto complicati ma due cose probabilmente vanno tenute a mente in maniera molto precisa e cioè una che ci sarà e c'è già questo picco negativo ma ci sarà un rimbalzo e in questo rimbalzo probabilmente si apriranno molte opportunità secondo che quello che più di tutti probabilmente ci salverà lo dico in maniera un po' enfatica è la tecnologia la tecnologia mai come in questo momento storico può rappresentare l'elemento per uscire molto rapidamente dalla crisi non necessariamente perché appunto si rifanno allo stesso modo le cose di prima ma perché probabilmente le ibridiamo le cambiamo le innoviamo usando si pensi adesso alla scoperta improvvisa dei benefici dello smart working che in molti casi è stato poco smart ma sicuramente è stato remoto è stato telelavoro senza dubbio è stato sicuramente home o remote working ma che ha comunque sdoganato anche culturalmente e nelle organizzazioni la percezione che stare a casa non vuol dire necessariamente non essere produttivi così come nel mio mondo ha sdoganato ha fatto passare il concetto che non necessariamente l'online learning è un learning di minore qualità va progettato va disegnato va erogato in maniera diversa ma consente se non altro di ottenere come stiamo facendo oggi in una platea che non vediamo ma che sappiamo essere di oltre 1100 connessi consente di raggiungere l'obiettivo se l'obiettivo è ad esempio quello di distribuire contenuti questo è un primo elemento importante su cui riflettere con una prospettiva positiva aggiungerei un altro elemento se possiamo andare avanti all'altra slide che ho preparato che questo è molto tipico dell'Italia adesso non so i nostri collegati all'estero se vivono la stessa percezione e questa percezione dipende molto anche dai paesi e dai continenti gli Stati Uniti stanno vivendo questa crisi in un modo il Sud America la sta vivendo in un altro il Far East in un certo senso l'ha superato ed è molto preoccupata adesso di un eventuale ritorno ma un'altra cosa importante da dire è che pur con tutte le perplessità le complessità poi ripeto in Italia anche delle lungaggini e come dire la complessità di procedure di meccanismi che noi ereditiamo direi dal regno delle due Sicilie in avanti quindi una certa difficoltà strutturale a muoversi rapidamente che in questi casi è la cosa che non vorrebbe fare non entro appunto nel dettaglio il sistema bancario si è rivelato quello che è cioè inadatto a reagire rapidamente a un cambiamento appunto senza precedenti ma sul mercato arriveranno moltissime risorse questa slide mostra ed è non è più aggiornata ma mostra quello che è accaduto nelle settimane precedenti da parte del nel nostro caso in Europa della European Central Bank in termini di acquisti di titoli e quindi poi di immissione di liquidità sul sistema cioè sul mercato comunque arriveranno moltissime risorse una parte di queste noi ci auguriamo ovviamente che vengano indirizzate sui settori che adesso sono improvvisamente tornati a essere strategici prima di tra tutti la salute pubblica però su tanti altri contesti industriali anche una volta non ultimo tutto ciò che è legato appunto al manifatturiero e quindi all'industria e quindi all'esigenza di realizzare oggetti che poi possono essere distribuiti e diciamo imballati nel modo appropriato probabilmente se le aziende saranno anche astute anche brave nel modo di fare un po' di lobby nei confronti di queste risorse anche qui avremo delle grosse opportunità per prendere quella tecnologia come ho detto prima ci potrà aiutare e avere le risorse per implementarla all'interno della nostra azienda questo è un punto un elemento su cui io vorrei che si riflettesse con estrema serenità cioè senza cadere nella trappola del peana del lamento tipico è perché è uno dei punti più chiari diciamo di potenziale ottimismo o insomma di prospettiva positiva a questo punto arriviamo all'Industry 4.0 se mi consenti quindi vorrei se per cortesia potete passare alla prossima slide ecco io qui ho messo delle citazioni della settimana scorsa peraltro che non sono mie ecco perché non vorrei sembrare quello che siccome appunto studia l'Industry 4.0 per definizione dice che la cura è l'Industry 4.0 come andare appunto dal cardiologo ti dirà che il cuore è la cosa più importante ecco no quindi vi ho messo delle istituzioni diverse queste sono dei rappresentanti importanti degli opinioni leader importanti nel nostro paese ma equivalenti ne posso trovare probabilmente per gli Stati Uniti come per la Germania e cito solo le fonti per capire a chi mi riferisco mi riferisco qui ci sono tre citazioni da una società di consulenza molto importante quindi UI ovviamente una di quelle società di consulenza che ha la capacità lasciatemi dire in qualche modo di fare delle profezie che poi sono per definizione autoavveranti che si basano su una lettura della realtà perché loro leggono la realtà ma poi in qualche modo inducono nei propri clienti che sono sempre le grandi corporation il cambiamento che loro per primi cercano di implementare quindi può sembrare un po' anomalo ma quando organizzazioni di questa natura come anche le grandi istituzioni della formazione negli Stati Uniti e in Europa hanno una visione poi inevitabilmente il sistema economico si adegua e si allinea in qualche modo e quindi si creano queste appunto profezie autoavveranze poi ci sono dei colleghi di c'è una situazione di un collega di un istituto importantissimo della migliore scuola di ingegneria del paese il Politecnico di Milano è tra le migliori scuole di ingegneria probabilmente del mondo e poi di un signore che forse a questa industria dice poco all'industria della carta alla grafica e lo dirà probabilmente dice nulla a chi all'estero ci segue ma che in realtà è uno di quegli attori il cambiamento nella storia dell'impresa un signore che si chiama Luca Manuelli oggi lavora in un contesto totalmente diverso ed è per farvi capire il personaggio un signore che vent'anni fa quando nessuno ne parlava forse venticinque anni fa lavorando in un'azienda media italiana dell'elettrodomestico piccola nello scenario globale cioè l'Ariston insieme a una proprietà lungimirante aveva inventato per la prima volta il concetto del pay per use nella lavabiancheria perché ho voluto portare questo riferimento perché questo signore che oggi è un opinionino importante è un CEO di un'azienda di assoluto prestigio al tempo si dovette fermare in quel progetto perché adesso è un aneddoto ma penso sia interessante perché la presa SCART quella cosa che serviva a collegare la lavatrice alla rete di trasmissione dei dati costava di più in termini di componentistica di larga parte della componentistica della lavatrice stessa quindi al tempo la tecnologia aveva dei costi che facevano da barriera oggi come dicevo prima la tecnologia ha dei costi che non sono più assolutamente barriera e che quindi consentano appunto di creare dei modelli di business diversi perché la tecnologia è lì costa poco e possiamo immaginarci modelli diversi allora questi signori come me condividono più o meno la stessa opinione e cioè che il 4.0 cioè questo modello industriale è basato su due principi essenziali semplici tutto sommato estrema connessione quindi connettività end to end dall'inizio dal primissimo componente che entra nella filiera all'ultimissimo prodotto che arriva al cliente di tutta appunto la filiera in modo tale che tutta la filiera abbia a disposizione l'informazione mentre questa si forma dai primi processi produttivi fino al luogo e al momento di consumo da parte del cliente perché questo è importante perché se io ho connessione oltre che fisica lasciami dire perché l'oggetto si muove lo vedo ma soprattutto logica informativa so ciò che accade al mio prodotto mentre questo si forma e mentre viene consumato appunto nel momento in cui queste cose accadono ti faccio un esempio della rivoluzione che potrebbe conseguirne immagina un mondo neanche molto lontano in cui tu non hai più bisogno delle ricerche di mercato con grande dispiacere per i miei colleghi di marketing sia chiaro però le ricerche di mercato si basano sempre sul principio che io vado a chiedere ad un cliente perché ha usato quell'oggetto perché ha scelto quei biscotti e non quegli altri e se il packaging ha avuto per esempio un'influenza ma glielo chiedo dopo che questa operazione è accaduta dopo che ha maturato il consumo quindi con dei tempi e in spazi e tempi che sono diversi dal momento in cui ha preso la decisione immagina di poter sapere esattamente quale packaging un cliente finale sta scegliendo nel momento in cui lo sta scegliendo nel luogo in cui lo sta scegliendo sapendo peraltro che cosa sta accadendo cosa c'è anche nel resto del suo carrello della spesa che magari può essere dati tra di loro come dire eletti integralmente e in maniera interconnessa ci possono aiutare forse a capire meglio il motivo di quella scelta allora tu immagina che questo accada e sia pervasivo per tutti i settori industriali l'industria 4.6 ci dice beh se questo accadesse e probabilmente potrà accadere quanto più i costi della tecnologia si abbassano tanto più noi potremmo migliorare la capacità di fare buoni prodotti come li vuole il cliente quando li vuole il cliente senza cadere nella trappola adesso vado avanti ma dopo magari se c'è spazio torno di prendere decisioni in ritardo e quindi in ragione di questo ritardo prendere decisioni sbagliate tornerò su questo quindi la connessione è il primo principio il secondo principio è la collaborazione perché per poter fare bene l'innovazione e poter reagire a cambiamenti come quello che abbiamo visto prima a questi picchi su e giù a cui anche qua lo dico senza purtroppo timore di essere particolarmente smentito alla storia a cui dovremmo abituarci ancora nei prossimi mesi perché la probabilità che ci siano magari dei picchi non così drammatici ma dei picchi banalmente di questa situazione sanitaria è molto elevata ecco per poter reagire a situazioni inattese per cui sappiamo che accadrà ma non sappiamo quando noi in passato abbiamo usato una soluzione molto elementare nell'industria e probabilmente dovremmo continuare o tornare a utilizzare nuove e cioè quello che si chiama magazzino se tu hai un bel magazzino se c'è un eccesso di domanda e vabbè hai il magazzino certo se il magazzino ce l'hai anche solo fisicamente e non c'è domanda beh per un po' di tempo la merce la metti in magazzino sperando dopo di poterla rivendere però negli ultimi vent'anni abbiamo creato dei sistemi produttivi in realtà molto tesi molto lineari in cui i magazzini sono scomparsi anche perché i magazzini costano certo e allora presupponendo che il prossimo scenario sarà un filino più ibrido se vuoi un filino più prudente magari un po' di magazzini in più li avremo ma nessuno tornerà a fare scorte perché in maniera esasperata per molte ragioni sia industriali sia finanziarie allora l'unico modo è poter sapere quello che accade quando accade e reagire tutti simultaneamente collaborando alla reazione rispetto al fenomeno che accade sul mercato un sistema 4.0 abilita questa capacità ti faccio una metafora per capire anche per tutti che ci ascoltano e che io uso spesso è un po' come se vi dicessi immaginate di essere a un semaforo quindi voi siete a un incrocio un semaforo il tipico semaforo italiano il semaforo italiano ha un grosso difetto ha il difetto di essere posto sulla linea in corrispondenza della linea in cui si ferma la prima autovettura e ha un'altezza non troppo elevata per cui vede il rosso o il passaggio al rosso al verde la prima automobile gli altri dietro possono muoversi solo quando il primo scatta in avanti se il primo lo scatta gli altri non si muovono altrimenti tamponano questo perché l'informazione arriva in fondo alla coda solo quando tutti gli attori in mezzo hanno interpretato il primissimo fenomeno passaggio al rosso al verde dal verde al rosso e quindi c'è un ritardo quindi accade che l'ultimo in fondo parte sempre in ritardo rispetto a quando davvero potrebbe partire ora immagina che io ti metta il semaforo al centro dell'incrocio e te lo metta molto alto in modo tale che anche l'ultimo molto lontano veda il passaggio al rosso al verde dal verde al rosso e immagina che tutte queste vetture tra di loro decidano di muoversi simultaneamente perché tanto vedono il passaggio al rosso al verde e viceversa quando questo accade l'informazione ce l'hanno tutti la vedono tutti nello stesso istante se tutti si muovono in maniera sincrona il treno di autovetture che attraversa il semaforo è dal punto di vista del numero di auto che percorre l'unità di tempo quel tratto superiore rispetto al processo precedente ecco l'Industry 4.0 crea sistemi che sono in grado di muoversi in maniera sincrona e collaborativa e quindi reagiscono insieme allo stesso modo quindi in modo coordinato a un fenomeno il semaforo è nelle macchine il semaforo manda un'informazione e le macchine lo leggono mentre il semaforo scatta molto chiaro la conseguenza di tutto ciò e poi chiudo su questo primo punto è che aspettate un attimo perché questo qui poi vorrei che fosse un po' una sorpresa per chi ci segue è che un sistema 4.0 è un sistema più resiliente cioè più capace di resistere ai cambiamenti e di reagire in maniera più efficace allora quando io due anni fa ho cominciato a parlare perché me l'hanno chiesto questi signori adesso non perché di 4.0 in questa industria molte aziende facevano fatica a capire del perché al di là dei benefici fiscali investire in questa tecnologia oggi lasciami dire grazie anche se vuoi alla crisi che abbiamo visto forse una chiave di lettura più chiara più immediata di comprensione un sistema 4.0 vi consentirà come è consentito a chi era già a chi aveva già implementato queste tecnologie di gestire meglio questi picchi che diciamo inevitabilmente dovremo fronteggiare nel prossimo futuro e forse comunque sarà ormai la caratteristica la cifra dell'agire economico e sociale della nostra società perché per quanto possiamo ritornare indietro alla globalizzazione non torneremo di nuovo al mercato al comune o al singolo dove l'eventuale problema non si dirama e non si propaga ormai si propagano e ormai ci saranno queste crisi tenendo d'occhio un po' l'orologio perché siamo un po' in ritardo andiamo alla slide successiva ecco allora cosa avevamo fatto due anni fa abbiamo iniziato a fine 2017 l'abbiamo implementato nel 2018 e siamo andati avanti per un pezzo del 2019 cioè abbiamo fatto un progetto che devo dire peraltro in Italia non so all'estero con un po' diciamo di presunzione dico anche all'estero non ha tanti precedenti non ha tanti assimilabili però non escludo che qualche mio collega altrove abbia fatto le cose simile noi abbiamo chiesto a direi tutta la filiera era di sottoporsi volontariamente oggi diremmo a un check a un check up in questo caso l'idea era tramite un questionario anche molto complesso di individuare quanto queste aziende fossero pronte a implementare soluzioni 4.0 e quali erano i gap dal punto di vista di competenze quindi lo riassumo molto brevemente diciamo che abbiamo mappato due temi la cosetta capability cioè la capacità a essere 4.0 e la robustezza dei loro processi perché uno degli altri grandi errori commessi anche da alcune grandi corporation nell'utilizzo della tecnologia è pensare che la tecnologia sani i problemi che esistono nel sistema industriale in realtà la tecnologia se tu hai un processo non ottimizzato ti digitalizza un processo non ottimizzato un processo che rimane storto come era prima e quindi abbiamo in qualche modo imposto una riflessione alla filiera devo dire che la filiera al tempo ha risposto molto bene perché tieni presente che non esiste almeno mi sembra in letteratura una ricerca su un campione non amplissimo perché gli associati complessivi delle tre associazioni dentro la dentro la federazione non superano i mille in totale sono molti meno ecco noi abbiamo avuto però una percentuale di rispondenti molto alta superiore alle 100 unità oggi sono circa 120 quindi una redemption molto alta superiore al 10% che ci ha conseguito di avere delle fotografie abbastanza precise di come la filiera era in quel momento dislocata e Andrea avanti per cortesia come dicevo noi in qualche modo l'avamo detto agli associati cosa si poteva fare gli abbiamo dato vedi questi due diciamo esempi di output del loro check up quindi un po' come andare dal medico e poi ti dà un referto esatto della tua statua di salute e gli abbiamo disegnato dei percorsi la federazione però poi ha voluto fare una cosa ulteriore che ha avuto luogo tra il 2019 e adesso questo inizio del 2020 e ora speriamo di ripartire perché eventualmente siamo fermati cioè ci siamo chiesti loro soprattutto ci sono chiesti di come ulteriormente assistere le aziende a questo punto nell'implementazione del percorso questa immagine che chi ci segue può vedere ipotizza che quell'azienda debba fare una serie di passaggi e come sai le aziende a volte soprattutto quando nel caso specifico italiano non sono necessariamente sempre tutte grandi e strutturate anche managerialmente hanno bisogno di assistenza l'assistenza costa anche questo è un altro vincolo e quindi le aziende tendono a dire sì interessante ma poi come faccio e quindi si è creato scusate se possiamo andare avanti si è creato un altro pezzettino in cui da un lato abbiamo dato appunto le linee guida e poi salterei questa slide e passerei all'ultimo e poi abbiamo creato questo percorso a imbuto che adesso non descrivo tutto nella sua ricchezza ma che parte da un principio il primo principio è stato che e questo l'abbiamo fatto già diciamo tra fine 2018 e tutto il 2019 le aziende venissero formate perché l'altro grande problema è che sì io posso anche parlare di 4.0 ma devo vedere gli interlocutori dall'altra parte che capiscano bene i concetti non solo tecnologici ma anche manageriali imprenditoriali le conseguenze anche finanziarie di essere 4.0 quindi abbiamo cominciato con delle iniziative di formazione fatte per alcune aziende che hanno aderito spontaneamente adesso l'idea è di farne molto di più magari più brevi rivolte soprattutto ai decision maker cioè alle persone che al vertice dell'azienda se colgono il valore aggiunto dell'investimento in 4.0 dopo evidentemente impongono che l'azienda si adegui abbiamo a questo punto immaginato una serie di eventi anche questo in qualche modo lo è la mia presenza qui oggi serve anche a dire alle aziende e alla federazione noi non ci siamo dimenticati di quel progetto l'abbiamo messo un attimo stand by siamo però è ancora lì siamo lì per corso ancora da fare continui a aver senso e forse ne ha ancora di più probabilmente le prossime settimane saranno un po' bombardati per dire allora dai mettiamoci insieme il terzo step diciamo di questo da una formazione più generale a una formazione un po' più specifica è quella di identificare ovviamente su base volontaristica quelle aziende che hanno piacere di fare l'approfondimento quindi che noi si vada proprio fisicamente in queste aziende a vedere quanta distanza c'è tra quello che ci avevano raccontato nel check up di un anno e mezzo fa e l'odierno affinare meglio la mappa il percorso che devono realizzare e addirittura questa è l'ambizione anche devo dire della federazione che è veramente non perché sono loro ospite ma sono lungivinanti cercare di fornire quasi devo dire la cassetta e gli attrezzi addirittura anche proporre quali possono essere i consulenti le scuole di formazione i partner tecnologici a cui indirizzarsi per poter a costi tutto sommato sostenibili fare questo percorso di evoluzione il mio sogno lo dico perché poi tra di noi siamo tra noi siamo tra di noi altre 1100 persone e che non solo aderiscono delle aziende e ci chiedono di fare gli approfondimenti diciamo di questi check up ma che ce lo chiedano almeno 3-4 aziende che in una posizione appunto in una prospettiva di filiera uno che fa carta uno che fa macchine per la stampa e uno che fa packaging o stampa ci chiedono anche di immaginare non solo quale percorso è il migliore per l'industry 4.0 verticale di azienda ma anche di collaborazione tra aziende quello che vorrei raccontarti l'anno prossimo in un evento come questo magari con 1100 persone di fronte è il primo progetto di filiera collaborativa 4.0 di fatto al mondo perché non esisterebbe nessuna associazione diciamo di rappresentativa di una industry che almeno oggi non esiste alcuna che è riuscita a far questo né in Europa né in Stati Uniti né in Giappone né tantomeno in Germania dove hanno inventato il 4.0 e quindi magari spero che con questo piccolo spot anche di oggi spero che funzioni va bene abbiamo la necessità di passare al prossimo pezzo di tavola rotonda tu Vincenzo hai quello che dovevamo dire abbiamo parlato dei progressi abbiamo anche il sogno per l'anno prossimo o meglio l'idea vincente per l'anno prossimo Vincenzo Baglieri professor of practice SDA Bocconi School of Management grazie mille grazie Carlo grazie per l'anno prossimo per l'anno prossimo per l'anno prossimo l'anno prossimo per l'anno prossimo Grazie a tutti